... Giovanni avete deciso di non portarla più la Monica? Non so, forse... No, non lo so, non è mia, ma anche uno che non ha i ripassi... No, non lo so, non lo so, non lo so... No, 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 no... No, non lo so... 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 No, no... No, non lo so... 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 No, no... No, no... No, no... No, no... No, non lo so... 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 No, no... 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 No, no...